Zambrotta, Seedorf Zambrotta ha provato la scorsa settimana con la Primavera oggi il derby Primavera l'ha vinto la Primavera del Milan Pato, 1-2, palla di ritorno, c'è Robigno poi Pato ancora Pato! 47 secondi il derby è già sbloccato Pato! Taglia Robigno con Seedorf Seedorf a largo ancora per Pato Pato la scodella per Robigno che non può arrivare ma il Milan è iniziato veramente a sprombattuto Gattuso sullo scambio corto è pronto a traversone, eccolo che arriva Basso, Nesta! c'è un altro contatto in area di rigore poi Seedorf sul fondo ma grandi applausi per il Milan che piace al suo pubblico Motta, cambiasso viene incontro Pandev ha un po' di campo Goran Pandev cerca il suggerimento per Pazzini in area di rigore Pazzini è passato a piatti e poi salvataggio Ninesta al diciannovesimo la grande risposta dell'Inter con Pazzini Boateng uno contro uno su Tiago Motta centrale si fa vedere Pato Pato ancora uno contro uno Pato con il destro la palla toccata termina in calcio d'angolo Zambrotta Prova il destro Zambrotta Seedorf Van Bommel ha un sacco di campo sempre Van Bommel eccolo con il destro deviato attraverso e poi arriva Giulio Cesar il pallone verso Canocchio Abbiati forse la palla è entrata ma adesso ve lo diremo con certezza Abbiati esulta come se avesse segnato un gol da qua capiamo dalla gol cam sembra averla non si vede al di qua non si vede al di qua tutta di là la palla Maicon si fa vedere Pandev dentro movimento di Pazzini e Cambiasso Cambiasso la spizza Eto incredibile errore di Eto incredibile sottoporta è vero incredibile